La crisi pandemica sta facendo emergere una crisi economica all'interno della quale trova terreno fertile la criminalità organizzata. A fotografare la situazione Inside Lockdown, un'analisi che da marzo sta impegnando la Guardia di Finanza del Veneto nel monitoraggio dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. Si tratta di soggetti che hanno una storia passata praticamente inesistente, che tuttavia dispongono di risorse finanziarie cospicue, che ci fanno ritenere che queste risorse provengano da attività non lecite o addirittura che si possa trattare di prestanomi che cercano di entrare sul mercato per conto di altri soggetti. L'usura in Veneto, a differenza di altre regioni, si manifesta in modo subdolo. La criminalità appare in un primo momento come un socio affidabile, salvo poi impossessarsi dell'impresa. Il soggetto criminale entra dapprima con una piccola quota di capitale e successivamente si allarga all'interno della compagine sociale fino ad assumerne il controllo. Solo denunciando si può accedere al fondo di solidarietà. È un fondo ben dotato di risorse finanziarie che va a sostenere esattamente le perdite o i danni che da un'attività di usura o di estorsione il commerciante, l'imprenditore ha subito. Si può denunciare anche attraverso le associazioni di categoria che invitano tuttavia a chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Non abbiate paura, non vergognatemi, trovate sempre la forza di chiedere aiuto. Con le nostre associazioni insieme ai nostri consorzi fidi lo possiamo fare. Quando arrivate e siete già protestati nessuno lo può più fare.